Buongiorno, sono Angelica Nilsson, country manager di TEP e prodotti per l'igiene orale. Sono qua con l'azienda TEP per sostenere IDEA, che è un'associazione per l'igienisti dentali. Per TEP, essendo un'azienda che fa prodotti per l'igiene omeccanica, l'igienista è una figura fondamentale. I prodotti per l'igiene orale sono la base in una cura del cavo orale. L'igienista è la figura all'interno del team odontoiatrico che meglio sa motivare, spiegare e dar le istruzioni corrette al paziente per il modo che il paziente possa poi avere una corretta cura dell'igiene orale a casa. La figura dell'igienista dentale in Italia è una figura che potrà ancora guadagnare tanto spazio all'interno del mondo odontoiatrico. Per esempio in Svezia, da dove arriva l'azienda che io rappresento, l'igienista dentale è una figura fondamentale. Il rapporto come numero di dentisti e igienisti dentali in Svezia è un rapporto che su ogni dentista ci va circa due igienisti. In Italia il numero dei dentisti superano i 40.000, ma i numeri dei igienisti dentali girano intorno a 6.000-6.500. Quindi io spero che l'igienista dentale continua a crescere e che prenda il suo spazio all'interno del team odontoiatrico in modo che possiamo migliorare l'igiene orale nella popolazione italiana.